Chi è meglio di un avvocato che ama gli animali può difenderne i diritti in un'aula di tribunale? È la storia di Federica Barletta, 32 anni, avvocato del Foro di Prato, ricercatrice di diritto amministrativo e padrona di una vivacissima cagnolina meticia di 7 mesi salvata da una brutta storia di maltrattamento che ha deciso di mettere la propria professione al servizio di Gaia Lex. Il centro di azione giuridica creato dall'associazione Gaia Animali è ambiente onlus per dare consulenza e assistenza legale a chi possiede un amico pelosetto. Pensiamo ai problemi di condominio, agli incidenti e ai casi di maltrattamento. Ma anche andare a passeggio con il cane, quante volte possono succedere delle problematiche, ci sono persone che li tengono liberi, possono esserci quindi problemi di responsabilità e poi anche solo nelle separazioni, la gestione dell'animale domestico nelle separazioni. L'avvocato Barletta ci aiuterà a capire come muoversi, grazie a lei Gaia Lex, che è già presente in buona parte della Toscana, sbarca anche a Prato. La consulenza sia scritta che telefonica è gratuita, poi ovviamente se la consulenza sfocia in un'azione legale, allora poi diventa un normale rapporto avvocato-cliente, quindi principalmente un servizio di informazione, quello che fornisce Gaia. Chi è interessato può scrivere a gaiaanimaliambiente.com L'animale non è tutelato come soggetto giuridico, come nel suo status autonomo, in altri ordinamenti invece questo è avvenuto.